Anche Catanzaro risponde presente allo sciopero dei magistrati, indetto dall'Associazione Nazionale Magistrati per dire no alla riforma dell'ordinamento giuridico e dei processi penali. Nel distretto di Catanzaro la percentuale di adesione è stata del 45%, con percentuali molto alte nella procura di Catanzaro, che ha aderito quasi totalmente. L'incontro è stato organizzato dall'ANM di sezione di Catanzaro, presieduta da Veronica Galcagno, di cui è segretaria Chiara Bonfadini, cui hanno partecipato magistrati, avvocati, docenti e cittadini comuni. Certamente è una riforma perfettibile, sono diversi i punti che meritano infatti un approfondimento soprattutto da parte del legislatore delegato, visto che si tratta essenzialmente di una legge delega per quanto riguarda gli aspetti di sistema, rispetto invece alla questione prescrizione, e quindi al nocciolo duro della riforma che è già entrata in vigore, devo dire che ha un po' scontentato tutti la riforma perché ha previsto una soluzione immediatamente cogente, quindi già entrata in vigore, che presta il fianco ad una serie di criticità e addirittura a profili di legittimità costituzionale, per cui si attenderà che maturi il termine minimo perché vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Il giudice Pierpaolo Vincelli della sezione civile del Tribunale di Catanzaro ha analizzato la separazione delle carriere e il tramutamento di funzioni. Questa riforma avrà degli effetti importanti perché quando si parla di autonomia e di indipendenza della magistratura non si è pensare ad un'autonomia e indipendenza esterna rispetto agli altri poteri dello Stato, ma noi dobbiamo anche pensare ad un'autonomia interna. Lo svolgimento delle funzioni che è pesante, faticoso, richiede la possibilità che il magistrato possa determinarsi, possa svolgere le sue funzioni con serenità, non preoccupato dai tempi, non preoccupato da un giudizio disciplinare che sta diventando e potrebbe diventare davvero incidente nell'esercizio della nostra professione.